e tutti i messaggi negativi scaricare un gioco siamo tanti di noi che ci vuole fare un download niente pure si chiamate ride vincete anche due magliette una tazza digital più di questo che vi devo dire cioè vi do io dei premi cioè nel tratto di 5 minuti sono moni grabber non fa niente sono moni grabber si sono moni grabber intanto moni grabber non va a fare fatti sta sempre qua a casa vedete quello che faccio quando esco che ricordate rimano sempre umile umile non va bene all'altro io devo fare questo e quell'altro rimano sempre umile ricordatevi non farò mai sperperare i soldi non l'ho mai fatto non lo farò mai se voi siete abituati a preparare i soldi io no ci tengo perché sono stato nella povertà ci tengo so che cos'è il valore perciò quando spengo 10 euro ci tengo per quella 10 euro perché so che significa so che significa adesso ce l'ho oggi vuol dire domani vuol dire che non ce l'ho più ok ok Grazie. Vi l'ho mandato la testa, vabbè. Vi l'ho mandato la testa. E compro l'attrezzatura. E non vi sta bene che devo fare i viaggi. Quali viaggi devo fare? Quali viaggi? Quali viaggi devo fare? Io non faccio nessuno viaggio. Non spenderò mai 10.000 euro per fare un viaggio. Mai! Prevenisco investire in attrezzatura. Attrezzatura e fotocamere. 10.000 euro disponibili per avere altre fotocamere. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. Ehi, sennò potete vedere. 2 presenze con pomodori. 2 giorni e basta. Che bel barattolo che cosa Barattolo di cosa Che bel barattolo di cosa Le fresine, le fresine Crea, crea Sono fresine modificate, secondo te Sono fresine normali Non mi peso più il live Non mi peso più Mi peso cazzo mio Passo Non mi peso più il livello Non mi peso più il livello Non mi peso è Allora, oltre non vi so più l'anima, invece, meglio che non vi so più, perché poi non sia mai che io non scendessi, non sia mai che io non scendessi, non sia mai, è la fine, è la fine, capito, è la fine, non sia mai che io non scendessi, è la fine, è la fine, non mi peso più l'anima, non parlo più di dieta, non parlo più di un cazzo di niente, stop, la vita privata a parte, dobbiamo farlo così, vita privata così, come fanno tutti, vita privata a parte, basta, volete giochi, volete giocare solo, giocheremo solo da oggi poi, faremo solo live di gaming, faremo solo live quello che volete voi, non parlerò più di dieta, non parlerò più di un cazzo, no, non sto calmo di un cazzo, basta, non sto calmo di un cazzo, capito, non sto prenoto niente, che non sia mai che io non scendessi, ah, non sei sceso, ti tolgo il follo, non fai la dieta, hai sgarrato, ah, fa un culo, ah, pazzo, 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 pur quando mangi la banana, dietro, 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 ma quando mangi la banana, dietro, pazzo, 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 pazzo Allora, pure da scendere di 100 grammi ma li ho scesi l'importante è che non li piglio perché una cosa è scendere piano piano è una cosa prenderli è un percorso lungo ve l'ho detto già non posso scendere 10 chili al settimana anche solo mezzo chili al settimana già è una cosa già è una grande cosa per me è una 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 cosa per me